Ripariamo le treppe nel muro con il nostro adesivo, sono tutti quanti bravi a piangere dopo che crolla un controsoffitto, uccide uno studente, volete diventare come le scuole americane dove ci sono le scuole private, delle persone ricche che sono belle, pulite e poi le scuole pubbliche, delle persone che non te lo possono permettere, che invece sono in condizioni disastrose, rendi prima di fare le riforme, ascolta noi, siamo noi i primi che saranno nelle classi, che siamo a scuola ogni giorno e che sappiamo cosa funziona e cosa invece da cambiare, non possiamo accettare le tue riforme in maniera passiva perché non ci sono alternative, noi siamo qui perché vogliamo che tu ascolti la nostra voce, noi che siamo i primi a starci a scuola, vieni con noi, vieni a parlare con noi! Una volta indetto lo sciopero del 5 che doveva essere dei professori, una lotta per il loro diritto...